Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Oggi è il primo maggio e, come ormai accade da parecchi lustri, non vi è alcunché da festeggiare. Anzi, si potrebbe ben dire che oggi è un giorno di lutto. Oggi il primo maggio dovrebbe essere Idealiter, la festa del lavoro, ma come dicevo non vi è nulla davvero da festeggiare se si considerano i reali rapporti di forza del mondo del lavoro nel quadro della globalizzazione turbo-capitalistica. E' dagli anni 90, infatti, che il lavoro viene subendo una controffensiva radicale da parte del capitale vincente. Perché in effetti col 1989 vi è stata la liberazione, ma non quella tanto celebrata dagli araldi dell'ordine liberale atlantista. La sola liberazione che si è prodotta è stata quella del capitale, che è passato all'attacco, più vorace che mai, di diritti e di valore. Sicché, dagli anni 90 ad oggi, abbiamo assistito a un'offensiva radicale del turbo-capitalismo contro le classi lavoratrici. Una controffensiva che ha, un poco alla volta, demolito e decostruito tutte le acquisizioni, tutti i diritti, tutte le conquiste delle classi lavoratrici, ottenute non certo in quanto munifici doni del capitale, ma come esito delle battaglie, delle lotte, dell'organizzazione delle classi lavoratrici? Ebbene, il capitalismo vincente dagli anni 90 si è un poco alla volta ripreso tutto. Lo ha fatto con riforme emancipative, che riforme erano solo dal punto di vista delle classi dominanti, lo ha fatto con l'indecoroso sostegno di una sinistra che ha abbandonato le classi lavoratrici per ridefinirsi come sinistrasce neoliberale e arcobalenica. Per quel che riguarda l'Italia, poi, la sua situazione è particolarmente drammatica, anche se va detto che il rapporto drammatico del lavoro riguarda tutto l'Occidente in conseguenza della già ricordata vittoria post-1989 del turbocapitalismo e delle classi dominanti.